Buongiorno e buon martedì. Oggi due video vi avviso, ma poi un pollicione, iscrizione se volete, attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono e commentano il mio materiale perché mi danno una grossa mano. Ora cercherò di affrontare un problema che è emerso, ma era emerso già da diversi mesi, cioè gli esiti in fausti o i tagli direttamente sulla vostra ricarica. Partiamo dagli esiti in fausti. Uno che sta uscendo in questo periodo, perché è strettamente legato al nuovo ISEE, è il superamento della soglia, cioè con il nuovo ISEE voi superate la soglia di accesso all'RDC. La soluzione è una, fate l'ISECORRENTE. Fate l'ISECORRENTE per dimostrare che attualmente, ricordatevi l'ISECORRENTE, fotografa la situazione attuale e non quella del 2021, a cui fa riferimento l'ISECORRENTE 2023. La situazione è cambiata e quindi di fatto rientrate adesso nei parametri dell'RDC e fatelo il prima possibile. Ovviamente in funzione del fatto che potrete farlo soltanto dal primo marzo, non potete farlo domani, ecco, dal primo marzo si può fare. A meno che la cosa non riguardi i patrimoni immobiliari addirittuali si va ad aprile. In ogni caso consultatevi con un CAF per organizzarvi. Tenete sempre presente che anche se andasse tutto bene, cioè con il nuovo ISEE vi venisse recuperato l'RDC, la cosa non è in giornata, non è neanche in dieci giorni. L'aggancio del nuovo ISEE potrebbe richiedere anche un mese, vi avviso in anticipo, perché altrimenti, cioè, vi fate un attimo prendere dall'ansia del fatto che non arriva. Purtroppo i tempi sono quelli. Altro motivo per cui c'è l'esito in fausto. Avete effettivamente superato la soglia. In quel caso lì, se il superamento della soglia purtroppo non è rettificabile, perché non potete neanche rettificarla utilizzando l'ISE corrente, lì non c'è niente da fare. Se il superamento della soglia è dovuto a un errore o a una valutazione errata di un bene, lo dico anche proprio per una di voi, gli bisognerebbe avviare una procedura per fare la rivalutazione del bene in questione, nel caso specifico è un bene catastale e quindi bisognerebbe rifare la visura catastale, quindi ci si mettono soldi, ve lo dico, non è una passeggiata, e poi presentare ricorso. Purtroppo con le tempistiche non so come va a finire, perché non è una cosa veloce. L'INPS, quando si tratta dei ricorsi, ci mette i suoi mesi ad accettarli. Un altro problema che è emerso, purtroppo, sono il mancato in biodisposizione poste e questo si rilancia alle mancate lavorazioni e le motivazioni sono due. Anche qui, mancato agganciamento del nuovo ISEE alla vostra pratica RDC, con il risultato che viene sospeso tutto fino a che questa procedura non è attuata, non perdete i soldi, in questo caso è una sospensione, non è un esito infausto, però intanto che loro fanno questo, voi non ricevete la ricarica. E l'altro caso, purtroppo, sono i controlli addizionali, controlli che vanno a cadere anche su un'altra cosa comparsa proprio in questi mesi, cioè il congelamento dell'invio di disposizione a poste. A domanda specifica l'INPS risponde dicendo che questo congelamento è dovuto a controlli ulteriori maturati nei giorni della lavorazione. Io onestamente posso dirlo, mi sembra una scemenza, perché non si può arrivare a quel momento lì e poi congelare tutto, come se i controlli dovessero essere fatti all'ultimo momento. Anche in questo caso, però, vi suggerisco di andare direttamente allo sportello INPS. È inutile chiamare il contact center, perché purtroppo le informazioni che danno sono quello che sono. E nel caso, anche qua, fatevi assistere da un CAF per capire questo congelamento. Tra l'altro, ci sono state lavorazioni anche ieri. Durante le ricalche c'erano anche lavorazioni in corso. A dimostrazione che c'è un caos, non da poco in questo periodo, in questa fase finale dell'RDC, c'è un caos abbastanza pesante. Ed è generato proprio da questi problemi, da una parte tra l'interfaccia delle pratiche, cioè l'ISEE, il ganciato all'RDC, dall'altra dei controlli aumentati che a volte vanno addirittura a cadere nel tempo in cui dovete presentare il nuovo, dovete ricevere una nuova ricarica. Poi ci sono i tagli. A febbraio l'INPS ha fatto anche i conguagli. Quindi non è detto che la cifra che vedete a febbraio sia quella definitiva. Se l'INPS ha fatto dei conguagli e questi conguagli sono in negativo, cioè vi ha tolto dei soldi, è possibile che questo mese la cifra sia più bassa e il mese prossimo sia più alta. C'è anche il fatto però che l'INPS scala dalla ricarica a RDC anche il valore di altri contributi in corso di godimento. Per farvi un esempio abbastanza semplice, la famosa carta acquisti viene scalata dalla ricarica. Ecco, se ci sono altri contributi di quel tipo, succede questa cosa, vengono scalati e quindi la ricarica è più bassa. Se non è nessuna di queste situazioni, anche qua l'unica è andare direttamente a uno sportello INPS. O, non so, se il vostro CAF è un CAF in gamba, andate al vostro CAF. Come vedete, le soluzioni sono sempre quelle. Non potete fare qualcosa voi da soli, perché non sapreste esattamente come orientarvi. L'unica è farlo fare o dall'INPS direttamente, sperando che vada tutto bene, o è un CAF, cercando di capire perché ci sono queste discrepanze, magari a fronte di un ISEE praticamente identico. Capire se c'è un conguaglio o no. Perché purtroppo, mentre per gli esiti in fausti, le sospensioni, se andate nella vostra cartella, quella dove sono i pollicioni, diciamo così, o nella sezione mobile, e c'è proprio in quel caso lì, ci sono proprio due righe dedicati, motivi dell'esito in fausti e motivi della sospensione, sono proprio indicate, ma se non lo trovate lì la spiegazione, è difficile che possiate arrivarci voi. Dovete per forza rivolgervi all'INPS. Io spero di essere stato chiaro, perché vabbè, il discorso purtroppo è incasinato, ma proprio alla fonte. I controlli sono aumentati, sono diventati esasperanti. Letteralmente chiamano i comuni per sapere se effettivamente la vostra residenza è quella, se lo stato di famiglia è quello, e il comune risponde quando cavolo ne ha voglia. La stessa cosa sul casellaio giudiziale. E tra l'altro adesso è uscita una cosa che obiettivamente creerà ulteriore casino, cioè una sanatoria per i percentori RDC, che sono decaduti proprio a causa del casellaio giudiziale. Ora, se passasse questa cosa, per percettori RDC che magari si troveranno a finire comunque l'RDC a luglio, cioè nei sette mesi, io prendo luglio come misura in generale, comunque nei sette mesi, e poi la sanatoria cancellerà questa cosa, diventerà un casino, perché lo stato poi dovrebbe dare a queste persone i soldi che gli ha negato applicando la norma sul casellaio giudiziale, per dire come si sta lavorando male. In ogni caso, per semplificarvi le cose, qui metterlo sotto la mail, se volete scrivermi, posso affrontare, vedere io e Jack possiamo vedere un attimo ogni singola situazione, magari chiamare il nostro amico dell'Inps e vedere quali consigli ci può dare, perché purtroppo ogni situazione fa un po' testo a sé in queste cose. Infine, quando avete questo video, dovrebbero essere iniziato le lavorazioni dell'assegno unico su RDC, mentre per l'assegno unico normale si tratta di aspettare sempre metà mese. E per chiudere definitivamente sulla questione di pagamenti, se avete avuto l'RDC sospeso e poi è stato riavviato, ecco, ricordatevi che in quel periodo voi riceverete anche gli arretrati. Gli arretrati vengono lavorati a metà mese e è una lavorazione indipendente da quella ordinaia, per cui in quel mese potreste ricevere due ricariche, una che comunque fa testo per le decurtazioni, cioè quella ordinaia, e l'altra che non fa testo per le decurtazioni. Può succedere, non stupitevi in questo senso, ma è una cosa strettamente legata alla vostra condizione di sospensione. Ok, io spero di essere stato chiaro, se avete dei dubbi, mi iscrivete e cerchiamo di chiarirlo insieme. Io vi saluto e poi i video sulla mia opinione per la Sheline al PD. Ciao a tutti!